Dopo aver arrestato di recenti i componenti di una baby gang che si era resa protagonista di atti inqualificabili nei confronti di anziani e donne, la Polizia di Stato ne ha sgominato un'altra, sì che si è contraddistinta per l'efferatezza della propria condotta. Nel pomeriggio di martedì, infatti, la Polizia di Stato ha fermato tre ragazzi minorenni che hanno rapinato una rivendita tabacchi in viale d'annunzio, soggrendendo con uno struditore e la titolare, una signora del 38, quindi ultra settantenne. La donna è stata soccorsa dal 118 e si trova tuttora all'ospedale di Cattinara con una prognosi di 40 giorni. Una volta entrati all'interno dell'esercizio commerciale, due di loro hanno cercato di portarsi dietro il banco di vendita con un pretesto e una volta minacciata la donna, l'hanno aggredita con una taser, scaricando l'energia elettrica sul volto e in altre parti del colpo, colpendola con lo stesso strumento. Un cittadino assistito alla scena, notando dapprima un certo viavai nei pressi della rivendita, poi i ragazzi indossarono i cappucci delle felpe per cercare di travisarsi e allontanarsi a piedi per la fuga. Il testimone ha chiamato il 113 fornendo preziosi informazioni e subito si sono portate sul posto tre volanti, mentre la salle operativa avvisava a tutti gli equipaggi presenti sul territorio. I polizioti quindi hanno fermato due minorenni nelle vicinanze della rivendita, mentre il terzo componente della banda, qualche minuto dopo, è stato fermato da una pattuglia della Digos in piazzale De Gasperi.